Allora in questo video volevo parlarvi degli Omega 3 oramai sono molti mesi che ho fatto aggiungere ad Alessandro nella sua alimentazione, diciamo un'integrazione di Omega 3 e vi volevo spiegare perché, in base a quale principio allora gli Omega 3 hanno tantissime, se voi fate delle ricerche su internet su Omega 3 diabete o semplicemente Omega 3 troverete che è forse, no l'alimento, il supplemento che ha più letteratura in assoluto ad esempio, di grande importanza è il fatto che è dimostrato che diminuisce l'incidenza delle malattie del cuore e se noi pensiamo che la principale causa di morte delle persone con diabete sono complicanze cardiovascolari quindi legate al cuore il fatto che ne diminuisca l'incidenza basterebbe già di per sé per farlo inserire nell'alimentazione di qualcuno con il diabete si è vista ad esempio che 10 mesi che hanno un grosso apporto di Omega 3 e hanno un ottimo rapporto tra Omega 6 e Omega 3 sono quasi a 1, hanno all'incirca 1,5 di Omega 6 quindi ogni gramma e mezzo di Omega 6 hanno un grammo di Omega 3 hanno un rapporto Omega 6 e Omega 3 a 1,1,5 e hanno scoperto che sono il popolo al mondo con la minor incidenza di malattie cardiovascolari e quindi si è pensato, subito si è fatta una correlazione tra alti livelli di Omega 3 e bassi problemi al cuore quindi già di per sé potrebbe essere interessante questo inoltre si è visto che molte delle malattie moderne tra cui anche il diabete che è una malattia che è in forte espansione hanno molto a che fare con i livelli di infiammazione gli Omega 6 sono pro-infiammatori gli Omega 3 sono anti-infiammatori e Omega 6 e Omega 3 non sono indipendenti ma sono correlati l'uno all'altro perché vanno in competizione facciamo finta che questi sono gli Omega 6 e questi sono gli Omega 3 allora vanno in competizione su determinati enzimi non conosco bene il meccanismo però immaginiamo che c'è una porta stretta e noi abbiamo un Omega 6 e un Omega 3 fino a che nel nostro corpo noi li ingeriamo nella quantità di 1 a 1 passa tranquillamente 1 poi passa tranquillamente l'altro se il rapporto diventa 4 a 1 quindi 4 Omega 6 e 1 Omega 3 come ad esempio era in Grecia ai tempi della guerra subito dopo la guerra c'è un rapporto di 4 Omega 6 e 1 Omega 3 passano però, sono molto più agevolati quindi passeranno più pro-infiammatori e meno anti-infiammatori nell'alimentazione nostra occidentale normale il rapporto si è spostato a 1 a 15 diciamo in Europa in America è più vicino a 1 a 20 quindi normalmente mangiando noi prendiamo 20 grammi di Omega 6 e un grammo di Omega 3 prendiamo meno Omega 3 rispetto al passato e prendiamo più Omega 6 rispetto al passato ad esempio la carne la carne che noi mangiamo oggi ha 5 volte meno Omega 3 sì perché gli Omega 3 non si trovano solamente nel merluzzo o nel salmone si trovano anche nella carne solo che la carne che mangiamo oggi ha 5 volte meno Omega 3 rispetto alla carne che mangiavamo 50 anni fa perché? perché la carne che mangia al pascolo erba ha molti più Omega 3 della carne di mucche che mangiano cereali noi sappiamo che oggi l'alimentazione delle mucche è prevalentemente insomma in grande parte fatta da cereali mandano le balle di fieno e altro e mentre in natura invece dovevano mangiare l'erba era prevalentemente erba la loro alimentazione la carne che pascola a prato ha 5 volte più Omega 3 e gli Omega 6 noi vediamo che gli Omega 6 sono largamente presenti in tutti gli oli usati abbondantemente dalle industrie alimentari quindi l'odio di palma l'odio di cocco l'odio di semi in generale sono tutti quanti pieni di grassi Omega 6 quindi mentre facciamo grande fatica ad ingerire 2-3 grammi di Omega 3 e ci compriamo il salmone e pensiamo di aver fatto un grande sforzo per aver messo gli Omega 3 basta che andiamo al supermercato e mangiamo una merendina qualsiasi i funghi sott'olio e noi nel fare qualsiasi azione normalmente la spesa normalmente prendiamo con molta facilità Omega 6 che succede? succede che il rapporto Omega 6 Omega 3 è fortemente sbilanciato in favore degli Omega 6 e quindi di qualcosa che favorisce l'infiammazione il diabete è una malattia che ha a che fare con l'infiammazione basta pensare che quando noi andiamo in iperglicemia abbiamo un'infiammazione e quando abbiamo un'infiammazione la gestione diventa più complicata perché si crea subito un'insulina resistenza e noi vediamo subito come è più prevedibile quando noi stiamo una giornata intera con i valori sotto i 120 per un certo periodo vediamo come il diabete diventa le glicemi sono molte più prevedibili do insulina l'insulina scende mangio l'insulina sale poi dopo riscende invece quando facciamo infiammare l'organismo quindi arriviamo a glicemie alte a 140 ma soprattutto sopra i 180 si crea uno stato di infiammazione che rende più difficile la gestione anche meno e anche meno prevedibile quindi per quello che riguarda la mia esperienza che sono 8 mesi io non posso fare una statistica quindi è assolutamente inutile che vi dico quelle che sono le mie esperienze o no ve le posso dire perché la mia sensazione è che le curve siano più morbide ecco prendetela così che siano più siano più facili da prevedere che se azzecchi la basale e sta a 100 è più facile che ti ti rimanga un'onda dritta invece invece questa è solamente però una mia sensazione che però è comprovata da molti studi infatti se voi andate a cercare su internet diabete diabete tipo 1 ma anche diabete e possibili vantaggi nell'assunzione di omega 3 troverete una grossa una grossa letteratura e anche semplicemente solo l'assunzione di omega 3 anche nel diabete tipo 2 se viste che aumenta la sensibilità all'insulina e quindi ci sono proprio anche dei frazionari miglioramenti perché in modo frazionale adesso non so in che percentuale però aumenta aumenta la sensibilità all'insulina quindi anche anche nel diabete 2 ma allo stesso modo anche nel diabete 1 di quanto io vi posso dire fatevi delle ricerche quindi se in qualche modo questo mio video mi ha incuriosito fatevi delle ricerche vi dico perché io vi ho fatto vedere la Enerzona che è questa che sto usando io che la trovate sia su ebay che su amazon è molto più costosa rispetto a proposte di grosse quantità di omega 3 che trovate su ebay e su amazon tipo le mega scorte che fanno gli americani che barattolano i grossi che costano anche meno di 20 euro mentre questa mi sembra costa tipo 60 euro insomma costano costano molto la questione è data dal fatto che decidendo di prendere omega 3 per tutta la vita nel senso perlomeno fai una scelta e dici no la voglio prendere la voglio prendere per un lungo periodo i grandi pesci i grandi pesci da cui poi dopo viene stato l'omega 3 mangiano piccoli pesci questi piccoli pesci che hanno un ciclo di vita di un mese e nell'arco del suo mese o dei due mesi si accumulano metalli pesanti a seconda di dove si trovano negli oceani più o meno inquinati comunque oramai stanno un po' dappertutto e quindi mettiamo che una sardina accumula un microgrammo arriva un salmone un pesce grande insomma che se ne mangia centinaia di pesci più piccoli ogni volta che mangia cento pesci mangia cento milligrammi adesso non è questa la quantità è chiaramente solo a livello esplicativo quindi avendo un ciclo di vita molto lungo e il metallo pesante entra ma non esce mai è molto difficile espellere non è che i pesci si mettono a fare la terapia gelante per espelle i metalli pesanti quindi il pesce accumula non esce mai al momento che noi andiamo a estrarle molte volte anche dal fegato infatti sapete che si chiama olio di fegato di merluzzo però anche altri omega 3 anche se non è olio di fegato di merluzzo comunque anche spesso dal fegato si estraggono questi questi grassi e è proprio nel fegato che si vanno a nitare queste metalli pesanti noi rischiamo di fare bene per gli omega 3 ma per un certo verso a lungo termine ci potremmo andare a intossicare e quindi io ho scelto un qui c'ha la certificazione IFOS che dovrebbe essere una certificazione che ti permette tipo di essere venduto anche in farmacia che è il massimo della garanzia sulla pulizia dai metalli pesanti e oltre questo c'ha il vantaggio il tipo di capsula che è fatta molto bene non è molle non c'è retrogusto è quasi scivolosa quindi pur essendo molto grande va giù bene le quantità che stanno riportate nella confezione parlano da 1 a 5 capsule al giorno è chiaro che la quantità sarebbe se uno ci avesse un'analisi che dice qual è il valore che c'ha iniziale qual è il rapporto tra omega 6 e omega 3 perché l'idea è andarla equilibrare quindi nei limiti delle possibilità preferire alimenti che contengono meno omega 6 perché poi lo scopo non è la quantità ma quant'è il rapporto tra uno e l'altro tant'è che se uno non mangiasse niente molto facilmente il rapporto tra omega 6 e omega 3 se uno mangiasse una sceta che sta sul tibet il rapporto già gli migliorerebbe perché normalmente facendo la spesa è facile comprarli e omega 6 però diciamo da uno da uno a cinque poi dopo magari uno il primo periodo non può prendere un po' di più magari e poi dopo a se sta se noi non ci abbiamo una regola una regola super fissa quando mi ricordo a pranzo a cena quando lo vedo che c'ho l'essandro sul tocco gli do uno o due di queste di queste omega 3 e anzi se voi avete ulteriori informazioni da dare scrivete tranquillamente nei commenti se in qualche modo il video vi è interessato chiaramente fare un approfondimento su internet è la cosa più facile del mondo ciao ragazzi e buona giornata a tutti ciao ciao ciao